Pronta ad attivarsi per mettere in pratica i tamponi in classe, ma solo quando il Ministero darà il via libera. L'idea dell'ULS2 di eseguire i tamponi a scuola così da non dover imporre la quarantena a intere classi trova ad accordo Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, ma le linee guida al momento, dice, non lo prevedono. Siamo assolutamente disponibili a questa soluzione perché ci evita di mettere in quarantena diverse classi che appunto più si va avanti verso la stagione invernale più forse c'è appunto il rischio che si moltiplichino a casi. Però al momento, e quindi io sono pronta a chiedere anche l'eventuale autorizzazione, a chiedere ai dirigenti scolastici di acquisire l'autorizzazione da parte dei genitori per far fare i tamponi in classe. Però finché non abbiamo il benestare da parte del Ministero non possiamo discostarci da quelle che invece sono le linee guida nazionali. che stabiliscono appunto la quarantena per l'intera classe in presenza di un caso positivo. Ufficio scolastico impegnato tra venerdì e lunedì nelle nomine dei docenti ancora mancanti, uno dei principali problemi di questo inizio di anno scolastico, la situazione, dice Sardella, sta via via risolvendosi. Devo dire che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti perché su circa 2.800 posti vacanti siamo arrivati a conferire circa 2.040 supplenze. I posti che sono rimasti vacanti sono ancora ad oggi i posti di sostegno. Però possiamo anche dire che faremo una seconda tornata di nomine, quindi riusciremo a convocare per i posti di sostegno i docenti che sono inseriti nelle gradatorie per posto comune e quindi speriamo e contiamo che a questo punto si riescano a coprire la maggior parte dei posti ancora rimasti vacanti.